Oggi abbiamo la felicità, la gioia di inaugurare queste nuove aule, ma non solo. Io devo ringraziare di cuore l'amministrazione provinciale, una figura del Presidente e del Direttore Generale, perché oltre a riconsegnarci queste aule che inizialmente erano per altro uso, sono riusciti anche a riottimizzare gli spazi interni, per cui tutta una rimodulazione di spazi interni che ci ha consentito di recuperare notevoli altri spazi. Abbiamo avuto la possibilità di avere anche altre aule musicali, e quindi insonorizzate, ben organizzate, che ovviamente renderanno più fruibile le lezioni del Marconi e renderanno anche più piacevole per i ragazzi e per gli stessi docenti la partecipazione alle lezioni dell'Istituto. Adesso dobbiamo essere contenti di tutto ciò che abbiamo, e poi vedremo per il futuro sicuramente questa collaborazione proficua andrà avanti e saprà produrre ulteriori frutti. Essere riusciti a trovare queste aule qui all'interno del campus, all'interno del liceo, secondo me è un'operazione encomiabile e devo ringraziare i tecnici della provincia che sono riusciti a ricreare queste aule in spazi dove c'erano le x-bar, eccetera, eccetera. Essere riusciti a mantenere tutto qua e non andare lontani dal campus è una cosa importante, però per me è ancora il primo passo perché io, come ho sempre detto, la scuola deve non solo formare i giovani ma deve essere accogliente nei confronti dei giovani perché passano molto del loro tempo in una scuola accogliente dove ci sta bene e ci si viene anche volentieri. Riuscire a fare tutto anche con i PNRR perché abbiamo messo in campo circa 20 milioni di euro con i vari PNRR per le scuole, sono oberati di lavoro e stanno facendo veramente miracoli, per cui ancora grazie a tutti i tecnici della provincia che hanno a cuore quello che è il mio pensiero, una scuola bella per un futuro felice. Grazie.